E' scattata all'alba l'operazione Oro Nero condotta dai carabinieri di Brindisi che ha portato agli arresti domiciliari. Sei indagati ritenuti responsabili di diversi furti di carburante e gasolio commessi tra giugno e novembre dello scorso anno. Tutti e sei sono autotrasportatori originari del Tarantino. Un settimo indagato in stato di libertà, il gasolio era destinato alla centrale termoelettrica Federico II di Brindisi di proprietà della Enel Produzione S.p.A. Gli indagati, secondo gli inquirenti, avrebbero utilizzato mezzi fraudolenti per commettere i furti. Il gasolio era destinato al servizio pubblico ed è stato sottratto ad una infrastruttura indispensabile per il funzionamento dell'impianto di produzione di energia elettrica. Le indagini sono partite dopo l'esposto presentato da Enel Produzione nel febbraio 2020 per alcune anomalie riscontrate, ovvero consumi abnormi di carburante non giustificabili. Da qui la minuziosa ricostruzione degli investigatori che hanno scoperto ben 35 episodi di furto e in ognuno di questi venivano sottratti circa 80 litri a carico. Sono almeno tre i metodi individuati dai carabinieri attraverso i quali gli indagati avrebbero sottratto il gasolio. Alcuni trasferivano parte di esso dalla cisterna di un auto articolato a quello di un altro che aveva già concluso le operazioni di scarico, altrimenti avveniva il trasferimento di parte del gasolio dalla cisterna al serbatoio di alimentazione della motrice dello stesso automezzo oppure a quello della motrice di un'altra autocisterna. Terzo modo, gli indagati aumentavano di proposito il peso lordo dell'autocisterna nascondendo a bordo della stessa vari recipienti contenenti acqua oppure altri oggetti per poi scaricarli a terra nell'area della pesa. In questo modo potevano sottrarre un quantitativo di gasolio corrispondente al peso aumentato. Non si esclude che il furto di gasolio potesse avere altre finalità. Gli indagati non agivano tutti insieme, ma massimo due soggetti per volta. Anche per questo motivo non è stato contestato loro il reato di associazione per delinquere. Grazie a tutti.